Brando Ricci, giornalista di Nigrizia, benvenuto, bentrovato, proprio qui a Pagine Aperte per raccontare l'evento di Arena di Pace, un'occasione storica che torna ad essere ospitata a Verona a dieci anni dall'ultima volta, quindi chiediamo subito a Brando Ricci quanto è rilevante questo processo, perché non si parla di evento ma di processo e ce lo spiegherà lui, in questo momento storico particolarmente drammatico e dove, come ci ricorda spesso anche Papa Francesco, si parla troppo di guerra, di armi piuttosto che di pace. Brando, bentrovato. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Sì, il 18 maggio a Verona appunto verrà Papa Francesco e insieme a lui verranno appunto circa 600 delegati da 200 organizzazioni della società civile italiana che si sono date il nome di movimenti popolari per questa occasione e non è un caso perché l'Arena di Pace diciamo si colloca al centro di due processi storici e guarda ad un processo che deve iniziare. I due processi storici sono rispettivamente l'Arena di Pace di Verona, nata nel 1986 su impulso dei beati costruttori di pace e al contempo gli incontri dei movimenti popolari con il Santo Padre che sono iniziati nel 2014, quindi quasi subito dopo l'inizio del pontificato e sono una componente molto importante della dimensione sociale del pontificato del Papa e sono anche un'eredità del suo bagaglio latinoamericano. Il processo a cui guardano è difficile, è complesso perché non ci potrebbe essere un momento migliore di questo per organizzare un evento come Arena di Pace, perché adesso faccio riferimento all'Europa perché purtroppo fuori dall'Europa i conflitti in realtà non si sono mai fermati, ma in Europa siamo davanti a un cambio di paradigma. Purtroppo il cambio di paradigma di cui parliamo va in una direzione opposta a quella desiderata e a quella per cui si battono da anni tante organizzazioni della società civile e tanti movimenti del disarmismo e del pacifismo. Questo cambio di paradigma è quello che fa della guerra una possibilità concreta, una possibilità che si può anche non evitare più, che smette di fare della guerra un tabù, in questo caso un tabù positivo per l'Europa. L'Europa è pronta ad armarsi, lo capiamo anche dal documento strategico sull'industria della difesa che è stato presentato ad aprile, che ci dice che l'Europa si vuole armare di più, meglio, che è già pronta a stanziare dei fondi, parliamo di un miliardo e mezzo dal 2025 al 2027. Lo capiamo anche dalle spese militari nel mondo, come certificano i dati del SIPRI, dell'Istituto di Ricerca sulla Pace di Stoccolma. Insomma, si sta andando verso la possibilità di affrontare la Terza Guerra Mondiale a pezzi, di cui parla Papa Francesco, tra virgolette, serenamente. E per farlo, diciamo così, si è pronti anche a investire sempre di più sull'economia della guerra, sull'economia purtroppo della morte. Ecco, la società civile, i movimenti popolari che si riuniscono a Verona, è importante rimarcare da anni, ogni giorno si battono per un'alternativa completamente diversa. E quindi il loro messaggio ad Arena di Pace è anche il giorno prima, ricordiamolo, in fiera, la fiera di Verona per la grande assemblea che li vedrà confrontarsi un po' tutto il giorno, circa dalle 9 fino al pomeriggio inoltrato. Si guarderanno, si parleranno, ricomporranno anche, se ci sono delle, proveranno perlomeno, chiaramente stiamo parlando di processi complessi, ma proveranno a ricomporre o ad affrontare divergenze e si presenteranno in Arena con un documento con un messaggio che, insieme alla forza di Papa Francesco, vuole proprio proporre un cambio di paradigma diverso, che è il cambio di paradigma dell'ecologia integrale, è il cambio di paradigma che va verso l'affrontare il tema delle migrazioni non come una minaccia o come, torniamo alle politiche dell'Unione Europea, vuole fare l'Europa con il patto migrazioni-asilo che è stato approvato ad aprile dal Parlamento Europeo, ma che invece vuole lavorare affinché si creino le condizioni per un dialogo fra i popoli, si creano le condizioni affinché si evitino le guerre fra poveri e si arrivi veramente a una fase in cui si può discutere di integrazione fra persone, fra esseri umani uguali. Insomma, un cambio di paradigma diverso. Un giorno che non vuole essere solo di parole, brando, temi teorici o un augurio per il futuro e a tal proposito, ma anche appunto per trovare le coordinate invece per alcune scelte e per questo è stato coniato anche uno slogan particolare che giustizia sia, ovvero sicura e inclusiva accogliente. E per questo si parla di processo come dicevo all'inizio, no? Un processo che vuole appunto non solo innescare, cioè mettere insieme quei processi che stanno già avvenendo, perché è importante far capire anche che un'alternativa già c'è, nel senso non è che dobbiamo pensare ad un'alternativa, costruirla, l'alternativa cioè dobbiamo pensarla e costruirla ma partendo da una realtà quotidiana che già c'è, di organizzazioni che appunto lavorano già per la giustizia che abbiamo appena identificato. Quindi sicuramente l'idea è quella di appunto lanciare un processo concreto, di rilanciare alcune mobilitazioni che hanno intersecato, tutto il cammino di avvicinamento ad arena, penso ad esempio a quella contro le modifiche alla legge 185-90 sul controllo dell'import, dell'export e del passaggio di armi in Italia, penso anche appunto alle campagne contro il patto migrazioni e asilo dell'Unione Europea, insomma mettere insieme quanto già si sta facendo nel quotidiano per portare avanti un'alternativa. Nel quotidiano è dal basso perché questa è un'iniziativa popolare come Arena di Pace che parte proprio dal basso. Senti abbiamo ancora un minuto, cosa può nascere secondo te alla luce della tua esperienza e da quanto hai osservato durante anche il percorso di avvicinamento ad Arena di Pace 2024? Allora penso possa nascere sicuramente un, oltre che c'è l'idea di lanciare appunto una scuola della pace qui a Verona, ma nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, sicuramente si può trovare una grammatica unica, diciamo così, o quantomeno il più omogenea possibile per poter mettere insieme tutte le mobilitazioni e per poter appunto avviare, cioè dare un nuovo impulso a tutti i processi di campagne che parlavamo. L'endorsement è dire poco, diciamo così, l'accoglienza da parte di Papa Francesco ci fa capire tutta la credibilità di questo processo. Quindi adesso nel dettaglio vedremo il 17 a che tipo di documento si arriverà, ma io sono sicuro che sarà un'occasione appunto, è già un'occasione storica e quanto ne uscirà ci darà modo di confrontarci ancora a lungo su tutti i temi che compongono all'Arena di Pace di quest'anno. Grazie per questo tuo intervento, Brando Ricci, giornalista di Nigrizza. Ricordiamo l'appuntamento, la presenza di Papa Francesco in Arena di Pace previsto sabato 18 maggio, minuto più, minuto meno, intorno alle 10 e 15. Grazie mille, buon lavoro, Brando.